ciao da luci oggi sono qui con voi per fare una recensione dei filati di un filo di passione il mio amico alessandro mi ha portato queste novità e le trovate tutte sullo shop e una ad una adesso vi dirò le caratteristiche e quali sono quelli che mi piacciono di più quindi passiamo al primo filato il primo filato che vi presento è volo color di mistrico filati guardate che bel colore soprattutto quanto è lucente è veramente molto molto bello questo filato ed anche molto molto morbido allora una mini cake è da 100 grammi per 210 metri ed è un 47 per cento critico 31 per cento poliamide 22 per cento lana ferri uncinetto consigliati 5 e mezzo 6 veramente veramente morbido e lucentissimo questo filato io non so se si riesce a vedere ma ha è proprio brillante ha dentro un filino che sembra quasi color perla e quindi riflette riflette tantissimo ma non è il classico il classico lurex quindi non ha il benché minimo pizzichio veramente molto bello qua consiglia appunto ferri e uncinetto dicevamo 5 e mezzo 6 sì secondo me assolutamente dovrebbe essere quello l'uncinetto 5 e mezzo più che il 6 poi dipende dalla mano però devo dire la verità con questo ci farò un progettino è molto bello poi questa colorazione mi piace tantissimo adesso io provo a muoverlo vedere se si vede che è così luminoso ma temo che dalla ripresa non si veda nulla e mi dispiace tantissimo perché veramente molto luminoso a quel pelosetto non fastidioso è leggermente pelosino ma non è fastidioso non è ritortissimo è ritorto ma non non è un ritorto è abbastanza libero come filo non è non ha molta vediamo se riesco a farvi vedere ecco non si apre però non ha una torsione particolare mi piace moltissimo mi piace moltissimo soprattutto di questa colorazione cosa abbiamo qui qualcosa che non ha bisogno di presentazioni il monnalisa color ovviamente merino touch ovviamente mistrico filati ovviamente soffice è veramente molto bello questo filato a me piace tantissimo ce l'ho in due colorazioni questa sul verde vedete ci sono tutti i toni del verde che va del verde che vanno fino al bianco e questi tono sull'arancio un giallo che è più ocra che senape vedete ma più che arancio direi mattone mi correggo subito è veramente molto molto belli questi gomitoli sono da 50 grammi per 100 metri guardate qua fa vedere anche un esempio di risultato lavorato ai ferri 100 metri sono 50 grammi 100 per cento microfibra vediamo se trovo l'uncinetto consigliato 6 6 e mezzo allora vi dico la verità io questo ieri lo stavo provando col 6 e mi sono trovata benissimo l'effetto bello rimane molto chiuso anche coi punti pieni rimane molto chiuso non direi che il 6 per la mia mano è l'uncinetto ideale questo si chiama monnalisa color questo ve lo consiglio veramente a parte che ripeto sempre mi ripeto in continuazione però non mi stanco mai di dirlo che tutto quello che io vi presento è ciò che a me piace se mi viene se arriva un filato che non mi piace non vi faccio neanche la recensione quindi tutto quello che io vi faccio vedere è quello che a me piace quindi ovviamente ve lo consiglio qui ho un filato molto molto particolare e non so dirvi effettivamente se questo mi piace oppure no però sono molto curiosa di vedere che cosa riuscirò a farci ho chiesto appunto alessandro di portarmelo perché lo volevo provare c'è in questo bellissimo verde ma guardate quanto è veramente grosso c'è in questo bellissimo verde ma ci sono anche altre colorazioni mi sono fatta portare proprio una una scheda una scheda che dice anche come unire poi il filato quando finisce e ci sono anche moltissimi colori ovviamente prediligendo il verde me lo sono fatto portare di questo bellissimo colore ed è veramente una bella tonalità di verde tra le altre cose e qua consiglia proprio lavorazioni grosse come cuscini come copri cuscini come tappetini insomma lavorazioni che richiedono proprio un filato grosso non so ancora ripeto per cosa lo userò e sono ancora un po così non lo so non però sono molto molto curiosa di usarlo all'interno adesso non riesco a farvi vedere perché è chiuso e non so dov'è il capo non riesco a farvelo vedere comunque è ripieno questo filato all'interno ha come un come dire un novatta una lanetta insomma all'interno è imbottito ecco quindi si chiama comfort mistrico filati 53 per cento poliestere 20 per cento acrilico 15 per cento lana 12 per cento poliamide 200 grammi 28 metri non è lunghissimo però è anche vero che è gigantesco e quindi se fosse più lungo il gomitolo sarebbe veramente troppo grande quindi ovviamente per avere un gomitolo di queste dimensioni la sua metratura non deve essere proprio molta ferri e uncinetto 25 ecco io direi che questo è uno di quei classici filati che si può lavorare con le mani oppure con i ferri numero 25 non so in che altro modo si potrebbe lavorare oppure vedremo più avanti come intenderò usarlo perché non lo so nemmeno io però vi dico che mi piace moltissimo dulcis in fondo in questa recensione di oggi abbiamo il filato gigolò allora è qualcosa di spettacolare questo filato perché ha una morbidezza veramente incredibile allora è morbidissimo adesso ne prendo uno solo e vi faccio vi leggo il la fascetta allora è un 70 per cento lana merino e 30 per cento acrilico direi che è assolutamente la composizione per me perfetta perché ha una percentuale altissima di lana ma ovviamente non è un 100 per cento lana al 100 per cento lana io personalmente lo sconsiglio sempre in quanto come si dice si hanno anche problemi poi nei lavaggi bisogna essere anche un po pratici quando si prendono i filati e il 100 per cento lana richiede una cura tale da insomma impegnare particolarmente perché effettivamente un 100 per cento lana rischiamo che se lo laviamo nel modo scorretto ci ritroviamo una maglia piccola così perché infiltrisce molto più facilmente uncinetti e ferri consigliati 5 e mezzo 6 e mezzo non so ancora non l'ho ancora provato vedendolo così direi che sono più propensa per il 5 e mezzo però anche quello dipende sempre dalla mano sapete che se si ha la mano più stretta si aumenta l'uncinetto se si ha una mano un po più larga si può tenere l'uncinetto un po più piccolo volevo dirvi la metratura ecco qua 150 grammi quindi una che da 150 grammi per 270 metri comunque una buona metratura devo dire la verità mi piace moltissimo sia la composizione che la colorazione che tutto vediamo se c'era un esempio di sfumatura anche se non dello stesso colore vedete molto molto bello anche la il tipo di sfumatura è molto molto bella è un po melange non è proprio colore netto mi piace veramente tanto anche questo non vedo l'ora di metterlo alla prova perché è un filato che io quando li sento così morbidosi non vedo l'ora di lavorarli devo dirvi la verità quindi questi sono i miei acquisti di filati ma non ho acquistato solo filati perché da un filo di passione non trovate solo filati è una merceria quindi trovate anche aghi bottoni insomma anche cose per il cucito ma in questo caso io sono rimasta nel mio genere nel mio abitato naturale che è comunque l'uncinetto e ho voluto prendere questo uncinetto nella prima ergo l'ergonomics io ho preso un 4 mm e devo dire che mi piace tantissimo guardate che bello veramente molto bello non vedo l'ora di mettere alla prova anche lui sono veramente molto colpita dal design di questo uncinetto poi io sono una fanatica ne ho di tutti i tipi di bambù in metallo ergonomici ne ho veramente tantissimi in legno perché comunque sono una fanatica dell'attrezzistica e quindi mi piace tantissimo provare e volevo provare per l'appunto anche questo uncinetto ho preso il 4 perché è quello in assoluto che uso di più il 3,5 4 di solito sono gli uncinetti che uso di più e quindi ho voluto provare questa misura devo dire che per ora il design mi ha colpito appena lo proverò vi saprò dire ma sicuramente non mi deluderà perché veramente molto molto bello ora lo ripongo nella scatoletta quindi anche questo e tanti a tante altre cosine di attrezzistica le potete trovare da un filo di passione l'amico alessandro vi seguirà nella vendita se avrete bisogno basta contattarlo e cosa dirvi di più io vado a fare qualcosa con questi filati voi se volete andate a visitare un filo di passione lo shop dell'amico alessandro vi lascio qui sotto in descrizione il link allo shop per ora vi saluto ciao ciao da luci alla prossima